Per me c'è grande delusione perché quando giochi una partita di calcio e non puoi giocare a calcio, non puoi esprimere quello che prepari, non puoi esprimere la tua idea di calcio, non puoi esprimere la tua organizzazione e quello che studi in settimana. Su quello c'è una forte delusione e un forte rammarico perché noi cerchiamo di offrire spettacolo, io penso che chi guarda la partita ha piacere a vedere le due squadre giocare a calcio e superarsi cercando di essere una migliore rispetto all'altra. Oggi si è vista una lotta, una lotta a tamburrello, palle lunghe, alla viva il parroco che sicuramente non è il calcio mio, non è il calcio della mia squadra, noi siamo comunque abituati a giocare a calcio e forse anche per questo motivo abbiamo preso quel gol perché eravamo nella metà al campo loro a cercare di giocare a calcio la palla invece è rimasta impantanata, una ripartenza, si è creato un 3 contro 3. Ripetisco, di questo sono molto deluso perché non si è potuto giocare a calcio, poi detto questo sicuramente noi dovevamo essere più bravi a non arrivare all'ultima partita, a giocarci il tutto e per tutto in casa del Galatasaray perché non sai che cosa può accadere, è accaduto l'impossibile, è accaduto che il campo era impraticabile, siamo dovuti scendere sul ring a fare una lotta e siamo stati meno fortunati rispetto a loro perché loro sono stati più fortunati, hanno vinto e sono passati.